funzionerà non funzionerà funzionerà per metà e poi Eolo ci lascerà mentre siamo intenti a succhiare il sangue ovviamente dei poveri paesani di Londra chi lo sa ci siamo non ci siamo fossa vampiro è un termine meraviglioso meraviglioso di nuova coniazione però secondo me è pieno è intenso è interessante no no eh no no vabbè bando alle ciance l'ho tenuto anche troppo questo cartello 3 2 1 3 2 1 ci siamo benvenuti a tutti quanti mi sono incastrato ci siamo adesso veramente si è incastrato il filo dappertutto benvenuti a questa live pomeridiana dedicata a vampire avete appena visto il gioco assieme a Giuseppe e Alessandro che vi hanno intrattenuto con le loro vampiriche conversazioni questo cavo mi strozza oggi funziona così brutta ok ecco meglio che vi hanno intrattenuto con le loro chiacchiere per un'oretta e adesso questo è sempre il cuore di Agony che c'ho qua da per vabbè però anche a tema può essere non lo so si polo sanguigna esatto Alex dunque io lo inizio da capo premo options e vado non l'ho giocato mai non l'ho giocato mai ci sono tre slot di salvataggio noi selezioniamo il primo opzioni intanto aspettate perché oggi sto cavo ha deciso di allora lingue e sottotitoli sottotitoli ci sono nome di chi parla attiva attiviamolo medi va bene audio dovrebbe andare tutto bene se poi lo sentite troppo alto mi fate sapere e abbasso via stai giocando su pc o su ps4 chiede passerotto battuta perché su ad agoni su ps4 sto giocando su ps4 il prescritto di cui hai messo la foto sui social è bello davvero si roby intanto colgo l'occasione per salutarvi siete tantissimi paola passerotto michele roby dragonero cristina alex games tequila andrea ciao andre siete un sacco allora otto bestie faraci figlie di otto notti di turbamento adesso si chiama così il turbamento va bene c'è la fila strocca ricordiamo che è ambientato nel 1918 se non erro è possibile giusto alla fine della prima guerra mondiale quando londra è stata colpita da un'epidemia di influenza spagnola Mattia Tumeo dice ho giocato un paio d'ore questo gioco è meraviglioso mi spiace che l'abbiano trattato un po' male a livello internazionale forse non riuscendo pienamente a apprezzare anche questa urgenza di bilanciare le proprie azioni di cercare un equilibrio in una moralità difficile il protagonista qui vediamo che cos'è la vita se non morte sospesa che è uno dei un quote che Giuseppe ha recuperato nel suo articolo bellissima review e che io ho utilizzato anche per lanciare il pezzo sui social su Steam ho già visto solo commenti positivi mi fa molto piacere mi fa molto piacere intanto ragazzi ricordatevi che se ci state seguendo intanto abbiamo spostato tutte le dirette su Twitch quindi se ci state seguendo in replica su YouTube venite a iscrivervi sul canale Twitch per interagire con noi anche in diretta per ricevere una notifica tutte le volte che andiamo live è importante soprattutto questa settimana perché fra due giorni partiamo in direzione di Los Angeles per coprire le tre sarà un coverage mastodontico ve lo prometto tecnicamente me l'aspettavo addirittura un po' peggio mi sembra che comunque sia a livello di mole poligonale le texture sì non sono incredibili ma la costruzione dei modelli poligonali non è male dicevo sarà un coverage mastodontico seguiremo in diretta tutte le conferenze di Los Angeles a partire da quelle dell'Electronic Arts per chiudere con il Direct di Nintendo passando per Ubisoft Bethesda Microsoft Sony Square Enix PC Gaming Show chi più ne ha più ne metta quindi ragazzi commentate tutto in italiano e poi ogni giorno dalle 17 alle 18 orario italiano vi saremo con il Q&A vi racconteremo che cosa andremo a vedere nella giornata che per noi inizierà e tutte le nostre impressioni sui giochi che abbiamo provato il protagonista diciamo che è un medico comunque tornando a Vampyr viene morso da un essere misterioso e qui viviamo in prima persona nei primi momenti la trasformazione in Vampyr con questa scena tutta bianco e nero tranne le chiazze di sangue che appunto ci fa percepire già quanto al risveglio il sangue ecco sia già diventato un'ossessione questa figura misteriosa probabilmente dobbiamo necessariamente consumarla Fram sei eccitato per queste tre in percentuale da un accento io sono sempre eccitato per le tre le tre per me è un momento speciale per tanti motivi benvenuto Vereor benvenuto Vereor anche Robby dice siamo tutti casatissimi mi fa molto piacere mi fa molto piacere eccolo e qui vediamo Jonathan che cede alle pulsioni vampiresche ah subito così subito la sorella porca miseria pesissimo cioè inizia così con il botto che ti succhi la sorella cazzo quindi immagino che sarà un protagonista molto tormentato a questo punto molto tormentato dal dolore dalla colpa cazzo certo anche un po' di yella ti risvegli la prima persona che vedi sei accecato dalla sete di sangue è la sorella fra cosa hai fatto no ho premuto io ho premuto solo X ecco e qua immagino che ecco già no si scappa non si combatte si scappa non si combatte christian ciao fra come va chiede ma tutto bene tutto bene è un po' eh c'ho l'ansietta pre partenza diciamo ma va bene e peraltro quando torno devo godermi sia questo che detroit quindi mi sa che dopo la sfacchinata delle tre perché ragazzi è davvero questo mi insegue si è davvero una sfacchinata mi prenderò forse qualche giorno di relax per giocare a questi due titoli ma chi mi ha sparato no oh non credo non credo che finirà bene ah forse devo scappare di qua mi stanno sparando a fucilata in faccia fra venerdì fate il Q&A sì venerdì è il primo Q&A però lo spostiamo alle 5 perché è il primo Q&A che facciamo da Los Angeles venerdì sabato domenica lunedì però mi è quadrato per eseguire un attacco da mischia attacchi da mischia le schivate consumano energia mo te lo faccio vedere io cacciatore bigotto armato del tuo fuciletto del cazzo vieni qua vieni qua vieni qua non mi puoi sparare c'è il baratro già meglio l'inclinazione della pistola ma no vabbè comunque non oggi c'è il Q&A c'è stato il Q&A speciale dedicato a Vampyr ed è finito una ventina di minuti fa sono passato attraverso delle casse così ah il sistema di lock va bene sì sì sparami so Vampiro so Vampiro mi spiace ma non mi ha lasciato scelta vabbè non è che tu abbia nemmeno tentato però certo ti ha sparato dei colpi in petto non è che anch'io forse li avrei preso l'accettato in faccio Aldo 133 si aggiunge a Lord di Avriai.it stasera chiede Michele ci sei tu con Sabaku sì stasera ore 21 ragazzi ore 21 io e Michele facciamo un talk show se Eolo ci assiste eeeh che sarebbe questa roba ma Jonathan chiede mi dispiace da qui alla fine del gioco a tutti i tizi che ammazza Verior dice spruzza legnosità da tutti i pori ed è va benissimo così anche Remember Me era super legnoso ma se questo c'è una sceneggiatura valida come quella di Remember Me cazzo Remember Me era probabilmente una delle distopie più belle che i videogiochi abbiano prodotto ti piacerebbe eh ta ta Remember Me è stato il titolo d'esordio di Don't Nod pubblicato da Capcom prima che poi Square Enix chiedesse i lavori su Life is Strange ah peraltro se siete appassionati di Life is Strange da cioè seguiteci durante le tre perché c'ho come l'idea che c'ho come l'idea che dopo Before the Storm che non era sviluppato da Don't Nod possa arrivare il sequel ufficiale fra un consiglio se vuoi ottenere il miglior finale possibile su Detroit fai come me guarda le Life di Ale prendi la maggior parte delle decisioni opposte a quelle che ha preso lui va bene va bene no fermo 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 stai tranquillo stai tranquillo stai tranquillo il sole ci fa male finalmente vampiri che non sbrilluccicano quando vengono investiti dalla luce solare danno aggravato alcuni elementi come il fuoco infliggono un danno aggravato che riduce la tua salute massima ok vedete in alto infatti c'è quella segno rosso che è appunto indice della mia salute massima spero di poterlo curare ah e lui c'è un lanciafiamme porca miseria guardando la recensione dice Christian e il chione di prima mi ha convinto non lo prenderò immediatamente ma più avanti sarà un acquisto aia qua si può andare no non si può andare per ora è molto lineare sarà l'incipit keep out certo a proposito di don't load life is strange per ios ipad lo prendo non ho mai giocato e do un buono sullo store quindi sarebbe gratis me lo posso godere lo stesso guarda squall purtroppo non l'ho giocato su quell'interfaccia ah però su ipad io direi assolutamente di sì fosse su iphone insomma magari anche no richard castle 1980 si aggiunge al lord di avriai benvenuto scusa fra se hanno lavorato fino ad ora su vampire mi sembra strano abbiano lavorato anche su life is strange probabilmente tu ne sai di più ma ragazzi don't know comunque è un team grossotto vampire lo stanno portando avanti cioè grossotto di medie dimensioni diciamo così vampire lo stanno portando avanti da molto molto tempo secondo me hanno fatto proprio due divisioni e hanno lavorato parallelamente anche su life is strange non penso che uscirà magari entro brevissimo ma credo proprio che i tempi per un annuncio possano essere maturi peraltro erano loro stessi che avevano detto di aver ho trovato 5 scellini sono ricco sole e fiamme no dettagli ah questa è la mappa nessuna missione le debolezze dei vampiri ah sole e fiamme mi sa che cioè loro stessi hanno detto di stare lavorando a diversi progetti per per grossi publisher quindi credo forse potrebbero avere addirittura oltre a life is strange 2 che hanno già confermato essere in lavorazione qualche altra sorpresa ah è qui lo specchio specchio riflette 12 sogni sogni per la regina rossa che riposa sotto la corona di pietre lui adesso si ricorda di quando l'hanno morso mi andrew fra non so se sei un fan ma un nuovo command and conquer ti piacerebbe a me scoppierebbe il cervello e sono generi che purtroppo oggi faticano un po' command and conquer per la l'affetto che provo io sono cresciuto in un'epoca in cui command and conquer era il messia del genere di riferimento o un nuovo anche un nuovo cambiando parzialmente genere anche un nuovo commandos cioè quella roba in visuale isometrica erano erano era un'epoca un po' diversa oggi non so se avrebbe mercato diciamo così però sarebbe per una certa fetta di pubblico forse composta da giocatori un po' grandicelli sarebbe veramente eccezionale Mattia dice comunque devo dirti che la grafica di questo gioco non è malaccio anche sistemi di combattimento che ne pensi allora la grafica no non è malaccio io pensavo veramente peggio ma mi sembra che non sia tremenda anzi mi sembra abbastanza espressiva comunicativa si le animazioni sono un po' ingessate sul sistema di combattimento vediamo come si evolve l'ho provato ho tirato quattro colpi in totale quanto mi piaceva siringare tedeschi con la spia in commandos quanto è figo commandos sono contento che ve lo ricordiate fra che ti aspetti dagli annunci che Sony farà domani non ho nessun indizio ragazzi non ho nessun indizio nessun indizio Anthony dice ieri ho finito God of War mi sono emozionato un casino quel finale lì secondo me torno a ripetere io l'ho definito delicato e sono convinto che sia uno dei finali più studiati calcolati piacevoli di un videogioco uscito negli ultimi tempi non una cosa roboante ma quel tipo di viaggio lì non aveva bisogno di un finale con più impatto aveva bisogno proprio di quel finale lì che è conclusivo ma aperto che è un momento di accettazione rilassamento velato da presagi oscure però è bellissimo è bellissimo ah cazzo ragazzi abbiamo iniziato da 28 minuti questo ha succhiato la sorella adesso si spara nel cuore cazzo pesante porca miseria coraggiosi questi ragazzi di don't know bravi ah e i titoli di testa così bravissimi bravi bravi molto bello bravi gli annunci di sony 3 saranno le 17 del nostro fuso orario 17 del nostro fuso orario scritto sul playstation blog italiano ovviamente sei vampiro è inutile che ti spari nel cuore fra cosa pensi per destiny 2 a settembre pensi che sia tipo la red dei corrotti io penso che abbiano preso quel guardato a quel modello lì poi vediamo se sono riusciti ad assemblarlo però sì penso che loro sappiano che quel modello di espansione non dlc sia sostanzialmente vincente mi aspetto nuovi nemici aspetto nuove sottoclassi anche forse però per destiny facciamo la diretta commentata in italiano alle 18.45 ci trovate qua evoluzione i letti dei nascondelli ti permettono di evolvere e riposare spendi punti esperienza per salire di livello e migliorare le tue abilità vampiresche autofagia inizia selezionando l'abilità disponibile autofagia prosciuga il tuo stesso sangue per curare all'istante un danno aggravato e normale va bene autofagia passive il vampiro usa il potere del suo sangue per curare danni aggravati e normali per aumentare la rigenerazione della sua carne dei suoi nervi e delle sue ossa con il tempo questa abilità vampiresca può diventare estremamente potente e sorprenderà di sicuro qualsiasi ignaro cacciatore di vampiri 200 di guarigione 300 di guarigione e poi qua 300 di guarigione 400 di guarigione ma costa molto di più guardate l'aumento della salute istantaneo per guardate più sangue per curarti all'istante e guadagnare un aumento aggiuntivo della rigenerazione ok ok vabbè per il momento tanto è questo che bisogna spendere 1003 non ce l'abbiamo no hai abbastanza per bloccare un'abilità aggressiva scegline una da sbloccare adesso allora scegliamo insieme sì Sandro scusa alle 18 era live di destiny ci siamo alle 17 50 alle 17 50 scusatemi scusatemi 17 45 allora sì stavo guardando se è tutto giusto su twitch sì 18 la live di destiny ok 17 45 ci trovate ci trovate qua scusate se ho sbagliato ah alissia 86 è sottoscritto un abbonamento di livello 1 ti mando un abbraccio fortissimo grazie c'è qualcun altro che si è abbonato sì c'è Paola grazie per 6 mesi consecutivi e mi sa che ha sbloccato il gold Paola forse sei la prima che hai sbloccato dello stemmino d'oro e intanto Eolo scatta e intanto Eolo scatta se Eolo non mi viene dietro io lo uccido ok poi Genio Cartaceo per 3 mesi consecutivi grazie Genio Alessio Col si è appena abbonato un abbonamento di livello 1 Gaetano 751 abbonato Twitch Prime ragazzi che cosa vi dico grazie infinite per il vostro supporto quello che insomma ci permette di capire che stiamo facendo bene aggressive artigli 220 di danno un attacco ravvicinato che può tagliare tutte le creature viventi di fronte a te lancia di sangue un po' meno danno scaglia una lancia fatta di sangue che può trafiggere i nemici di fronte a te distanza a lungo raggio il costo è uguale per tutte e tre no questa costa un po' meno 250 ombra ah questo fa danno normale questo fa sanguigno e questo ombra posizioni una nuvola di ombre a piedi del tuo bersaglio o ai tuoi la nuvola esplode dopo un breve periodo causando un danno pesante mi fa un po' cagare così la descrizione forse sceglierei o la lancia di sangue o gli artigli che cosa facciamo corto raggio lungo raggio corto raggio lungo raggio facciamo gli artigli facciamo gli artigli dai gli artigli che poi diventano taglierai la carne della tua prete così in profondità che ora guadagnerai sangue ad ogni colpo minchia sbloccata ok ora seleziona riposa per salvare le tue scelte fra non hanno ancora messo la fibra da te allora l'hanno messa ma formalmente formalmente c'è ma ancora non c'è l'allacciamento commerciale e spero che stasera Eolo ci grazie e ci faccia fare questa diretta insieme al buon Sabaku capitolo una sete perenne identifica affronta il vampiro che mi ha creato aggiornamento missione raggiungi il nord del porto a che ora finisce la live penso che staccherò poco prima delle cinque così facciamo due orette e poi ho un attimo di relax prima di ripartire poi con la questa con la diretta per Destiny di vediamo dove si deve andare ok abbiamo guadagnato anche l'abilità di spostamento domani siete live per l'annuncio di Sony no Gnerd non dovremmo essere live per quell'annuncio anche perché non penso che sia un annuncio con un video una diretta sarà semplicemente pubblicazione di un comunicato e via credo eh paletto usato le armi secondarie possono essere usate premendo triangolo hanno degli effetti speciali e consumano energie e come faccio io a equipaggiare secondaria un paletto affilato di legno appositamente progettato per trafiggere il cuore di un vampiro e che succede quando il paletto antivampiro viene utilizzato dal vampiro ho preso la chiave del rifugio come si corre si corre non si corre questa la posso aprire con la chiave che ho preso no Richard Castle dice io ho preso questo gioco ma lo proverò solo dopo aver preso il platino a detroit un paio di giorni ancora dai il platino mi immagino preveda che tu veda tutti i finali insomma è anche molto bello quando le scelte del giocatore hanno un'influenza così importante nell'economia narrativa per mordere il nemico stordito mordere il nemico fornisce sangue per usare l'abilità ricaricare la salute ok si ti mordo ora che hai del sangue preme R1 per scatenare l'abilità vampiresca madonna un'artigliata potente molto bene rapture dice a me dovrebbe arrivare domani ma sono ancora troppo provato da god of war adesso ti succhio e bam tu sei proprio morto male eh volevi eh con la tua pistoletta e invece mi sento come un bambino che sta imparando i limiti del suo corpo dice il buon Jonathan hai sparato in faccia che attacco era che attacco era scusa è questo ma che ma chi stai chi stai colpendo chi stai colpendo frammenti frammenti d'alluminio scellini ah qui si può risalire ok va bene hai avuto modo di provare il dlg di far cry 5 no purtroppo no purtroppo no perché in questo periodo ragazzi il mercato non ci lascia liberi di respirare c'è sempre un sacco di roba ponte di e con la preparazione delle tre ci siamo concentrati anche un po' abbiamo fatto un po' di lavoro tecnico che speriamo se la connessione americana regge di poter mettere in pratica vedrete che quest'anno le dirette saranno ancora più ricche sempre di più sempre di più tutti i cazzo di giorni quando partite chiede pain partiamo giovedì giovedì è già venerdì mattina per noi venerdì pomeriggio per voi facciamo il primo q&a da là ricordatevi che nella settimana delle tre il q&a i q&a saranno quotidiani dalle mi sono appena succhiato un topo certo che è spregievole però se viene la x 10 scellini questo questa è la visione va dicevo tutti i giorni dalle 17 alle 18 quindi dalle 5 alle 6 del pomeriggio tutti i giorni richard castle remember me per i tempi era tanta roba sì che era tanta roba remember me era veramente un bel action anche quello lì forse un po' massacrato da una parte della critica perché in effetti il sistema di combattimento era un po' legnoso cioè è inutile girarci intorno non era il suo punto di forza ma insomma già aveva una sceneggiatura molto molto sottoteatrale è un racconto secondo me proprio l'idea alla base era meravigliosa ovvero c'era la possibilità nella distopia di remember me di rimuovere i ricordi e quindi sostanzialmente succedeva che c'era una parte della popolazione che viveva in una patina di felicità in qualche maniera artificiale perché aveva rimosso i ricordi sgradevoli quindi tutti gli errori le scelte sbagliate tant'è che c'era un fronte di resistenza che si chiamavano gli erroristi che invece valorizzavano cioè volevano riscoprire il valore dell'errore anche a livello sociale e poi i nemici erano questi memory junkie cioè queste persone che si erano facevano impiantare ricordi felici di altre persone per la scarica di endorfine che è un ricordo felice poi genera e erano diventati in qualche maniera dipendenti ma proprio per l'innesto di ricordi che non erano loro avevano perso il senno bellissimo peraltro tutta questa idea della rimozione del dolore era legata anche al fatto che Parigi o meglio perché era ambientato a Neo Paris quindi Parigi si portasse dietro delle cicatrici di una guerra europea che aveva distrutto buona parte dell'Europa Parigi era un'isola felice perché avevano creato una grossa diga che si chiamava Meriferic come una muraglia che cingeva la città e insomma al suo interno le persone anche per superare il dolore e la memoria della guerra si facevano estirpare i ricordi e innestare i ricordi felici scusate se ho divagato ma è veramente per me un titolo eccezionale meraviglioso dal punto di vista proprio concettuale giochi fino alle 17 sì se Eolo mi mi sostiene gioco fino alle 17 stasera alle 21 Popcorns and Live stasera alle 21 vi ricordo che ci sono io con il buon Sabaku che facciamo una chiacchierata quindi era anche molto distesa ragazzi se lo giocate oggi Remember Me preparatevi ad un sistema di combattimento molto ingessato aveva qualche cosa di carino perché ti potevi comporre le tue combo proprio come se avessi dei tasselli messi uno dopo l'altro facevi le tue combo quindi potevi scegliere attacchi pesanti attacchi a aree attacchi leggeri i sensi vampireschi mi permettono di identificare il sangue però diciamo le animazioni erano un po' ingessate all'epoca oggi lo saranno ancora di più ma ne vale la pena ragazzi poi c'erano dei momenti quando dico che la sceneggiatura era molto teatrale c'erano alla fine dei mi pare cinque atti che compongono la storia c'erano dei momenti in cui Nielin Nielin si chiamava sì la protagonista faceva dei monologhi interiori che insomma metteva in discussione proprio le sue scelte quelle della società in cui viveva ragionava sul valore appunto dell'errore del ricordo anche doloroso era ottimo qui il sangue ok il sangue scende poco a poco quindi succhiare i topi diventa fondamentale Alberto dice molto bello Remember Me è un gran bel ricordo di quel titolo mi fa molto piacere anch'io lo porto nel cuore con molto piacere segui le tracce dell'assassino le tracce dell'assassino portano qua sconosciuto finalmente un po' di vita ma che battuta è finalmente un po' di vita per un vampiro dai che cazzo parla con gli altri abitanti ciao buonasera signore mi chiedevo se potesse aiutarvi sembra che le serva un bicchiere sì di buon sangue spillato direttamente dalla sua giugolare è entrato qualcuno nel bar ho passato la notte a fare l'amore con questa magnifica bottiglia ovviamente che si può anche fare l'amore in maniere non figurate con la bottiglia sei un ubriacone io non ho lascio la sua bottiglia sentiamo il barista che forse è più collaborativo si nasconde mio dio signore ma come non ho sete beh che fai il facile umorismo da vampiri prima un po' di vita poi adesso non ho sete dai che cazzo sto cercando qualcuno ciao vulcanoro benvenuto benvenuto vuol dire che ancora qui ha pagato per tutta la settimana chi sarà chi sarà devo incontrare quell'uomo ma non è detto che sia quello che cerchi niente scherzetti questo è un locale rispettabile che cosa vuoi che li faccia li farò mai insomma magari li lecco il collo sabrina che cosa ci dice sabrina voglio solo parlare sabrina stai tranquilla è solo il 1918 penso che girando l'angolo a sinistra tu rischi almeno 47 stupri e 18 rapini ma insomma qui siamo in un locale rispettabile no ah io posso anche decidere di succhiarli vedi e questo mi da 350 esperienza 1500 esperienza porca miseria quasi quasi sabrina ehi come è fatto a capire che qualcuno sta arrigliando com'è fatto a capire che qualcuno sta arrigliando molto bello l'effetto l'effetto della croce cioè il fastidio che il vampiro prova di fronte alla croce un bel effetto lui ha capito che noi siamo vampiri probabilmente è una persona che studia le creature della notte danius dice solo a me questo god of war è piaciuto meno del 3 non so danius no danis danissus scusami danissus 08 a me è piaciuto molto più del 3 allora il dottor edgar swansea non saprei vediamo un po' credo credo di non saperlo più però veniamoci incontro eh che cazzo ha ragione lui ha ragione lui sia uno stronzo Jonathan cioè vi leggo eh che dite sono due produzioni diverse certo che god of war 3 e il nuovo god of war sono due produzioni diverse ma uno potrà anche dire quale delle due gli è piaciuta di più eh non è che adesso perché non possono essere non si può fare un raffronto eh relativo alle meccaniche di gioco uno non può avere delle preferenze che cosa mi ha chiesto anche io sono una vittima sì sono stato attaccato in seguito per le strade sono una vittima anch'io il dottor Edgar Swansea sta svolgendo un'indagine indipendente in questa zona proprio per capire cosa sta succedendo cosa sa sono curioso no con chi stava parlando era una vampira sicuro non fare il furbo però eh cosa sa sentiamo sentiamo cosa ho scoperto riguardo agli omicidi qualche sera fa voci di omicidi violenti il porto è sempre stato un posto sgradevole diciamo questa volta è diverso c'è lo zampino di un vampiro affamato avventato e per questo deve essere fermato al più presto e noi ci proveremo mi aiuti allora dai l'odore del sangue di una vittima recente ma già cazzo è vero mi permetto di dubitare no come dovrebbe lasciare io ho gli artigli vampireschi ho le abilità mi rigenero non rompere i coglioni fammi cercarlo anche a me sta roba ho la vista vampirica cosa farà se troverà l'assassino e mo te lo dico esigo delle risposte gli farò oh che cazzo fai finisce così è stato uno scattissimo 6.000 di esperienza 6.000 di esperienza ricordatevi che in buona sostanza oltre a rapinare e rubare gli scellini nel cassettone del dottor Swansea sostanzialmente possiamo decidere in questo gioco di uccidere tutti gli NPC e appropriarci delle loro abbondanti dosi di sangue per potenziare il nostro vampiro il nostro Jonathan Reed attraverso la attraverso la schermata che adesso non riesco a ritrovare perché non so dove sia qua ci sono nel porto e per tutti quelli che sono i quattro distretti della Londra nel 1918 riprodotta in Vampyr appunto c'è l'elenco di tutti gli NPC come potete vedere ogni distretto ha un leader se decidiamo di uccidere questi NPC per poi avere un vantaggio in termini di punti esperienza e quindi di capacità di sbloccare le skill il distretto piano piano se ne va tende ad andarsene a puttane allora ci siamo detti tutti mi dispiacerebbe lasciarmi solo va bene le lascerò solo qualcuno deve pur sapere qualcosa sentiamo se sei qualcos'altro ah perché giusto seguendo le tracce di sangue sono arrivato fin qui quindi qualcun altro ci deve essere deve essere arrivato raguz fra ho preso Agony su Steam e devo dire che dopo la seconda patch alzando un pochino la gamma delle impostazioni grafiche si lascia giocare abbastanza bene tu l'hai più provato si Ragots e avevo scritto anche una recensione della versione PS4 in cui dicevo sostanzialmente che su Steam è un cazzo di altro gioco è proprio un altro gioco cioè lo sprint le animazioni non è un gioco un capolavoro un gioco meraviglioso ma si lascia giocare cosa che su PS4 non succede Agony prendetelo cioè se vi interessa quell'immaginario lì che peraltro è un immaginario comunque molto particolare magari non prendetelo ora a prezzo pieno che mi sembra costi 26 scontato perché sarebbe 29,90 però dategli un'occhiata quando costa 14 su PC potrebbe non essere una cattiva idea potrebbe veramente non essere una cattiva idea penso che mi stia nascondendo qualcosa perché io lo so che qui c'è passato il vampiro nascondo molte cose a molte persone il mio lavoro consiste in questo è stata una risposta intelligente è stata una risposta intelligente e l'accetto però c'è un'opzione per parlare che dice indizio richiesto e se io seguo se io seguo le le tracce no l'indizio me lo darà Sabrina 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 stai pulendo delle tracce di sangue mi dici chi le ha lasciate per favore altrimenti ti strappo il cuore eh Alberto mi è rimasto sto cuore lo so ho il sospetto che qui ci sia stato qualcun altro stanotte penso che Tom non voglia parlarne io sono solo la barista se Tom dice che è l'unico ospite che abbiamo avuto allora no ascoltami Sabrina ascolta facciamo a capicci William Bishop è passato di qua poco fa e pensavo avrebbe colpito qualcuno ah vedi era agitato mi parli di lui William era un marinaio che lavorava al conservificio un tipo simpatico veramente non è mai stato violento fino a questa notte Tom è sicuramente molto sleale molto leale dopo che Will ha perso il suo lavoro gliene ha offerto uno qua era una buona amica ultimamente beh William ha iniziato a diventare molto aggressivo fra i dialoghi come ti sembrano risultano coinvolgenti o alla lunga un po' tediosi e ripetitivi ho appena iniziato ragazzi sono iniziato da un'oretta per il momento anche questa idea dell'indagine e della possibilità di scoprire degli indizi con cui sbloccare altre opzioni di dialogo non mi dispiace vedete vedete che poi gli indizi dettagli cittadini in quanto vampiro hai bisogno di sangue umano per evolvere la vara della qualità del sangue indica gli esp che guadagnerai se ti ciberai di questo cittadino gli indizi sbloccati aumentano la quantità di esperienza ah questa è la qualità del distretto stato di salute ok 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 ma dove era l'indizio dove era l'indizio non lo trovo più questi dov'è William Bishop vabbè boh no no lui è proprio ubriaco Duke ma che bello che è il fossa con sto polo rossa e i capelli tagliati bene prima delle tre vanno tagliati bene il fascino del fossa vampiro nonostante Ale mi sfotte ha ragione a sfottermi è un titolo di merda ma è 5 minuti dall'inizio in quanto vampiro puoi costringere un cittadino a rivelare delle informazioni grazie a un indizio che è scoperto in blu perfetto mi parli di William Tom mi parli della visita del suo amico Will perché mi hai mentito brutta merda adesso non rigirare la frettata devo trovarlo ciao Sachi Twitch benvenuto buon pomeriggio anche a te lui è un pazzo maniaco alto con un brutto sfogo sulla pelle e dei vecchi vestiti strappati è Serino prima William era forte no Serino non c'ha lo sfogo sulla pelle è solo sudatissimo ok rientraccia l'assassino esamina le barche eccole qua le barche forse saranno queste? si guarda a parte che qua c'è cos'è? niente è un pallino luminoso lo vedete sulla vetta della barca ah è un ce l'hanno tutte allora che cosa esaminiamo? raccogli la nota subito cosa è questo? qualche sorta di nota ordini di Priwen omicidi multiple del porto crediamo sia un'opera di una sanguessuga che è il modo in cui vengono chiamati i vampiri trovate quella bestia eliminatela al più presto secondo le ultime notizie si tratta di un vampiro molto violento prestate la massima attenzione so che siamo a corto di uomini in questa zona della città ma non è un lavoro per reclute se non sbaglio ci sono omicidi ogni sera come sempre ispezionate prima in luoghi abbandonati vabbè gli è andata male gli è andata male esamina abbigliamento quest'uomo era armato e ha cercato di difendersi esamina ferite unchiate nella faccia oggi non c'è il Q&A dice Ryan Blake allora il Q&A c'è stato alle ah no il Q&A classico delle 14 no delle 16 no non c'è c'è stato alle 14 dedicato a Vampyr sangue e bottiglie di gin vuote ci sono delle macchie sull'altra sponda del canale devo raggiungere quella chiatta e andiamo verso la chiatta voilà guarda così boom cacciatore allora qui mi sa che mi sa che qui attacco di opportunità silenziosamente dietro a un nemico piano piano ma lo posso accucciare ogni tanto c'è qualche animazione un po' che cosa stavi cercando tu armi a lungo raggio equipaggio e premi triangolo per usare le armi a lungo raggio infliggere un danno standard sia un danno standard che da stordimento tieni presente che le tue munizioni sono limitate ok cosa abbiamo beh dove perché non la posso equipaggiare ah pistola revolver usato equipaggio ok alcuni nemici sono più resistenti a un determinato tipo di danno ci sono 4 tipi di resistenza da mischia lungo raggio sangue ombra scusate eh che stavo provando a no così prendiamo il potere che è la seconda barra però io volevo cambiare arma ah così si fa vabbè cioè è molto bellino perché c'è scritto la freccetta in giù e poi in realtà si fa nell'altra maniera vabbè qua potevo anche mi sa che potevo salire e vedere se c'era qualche cosa vediamo un po' vediamo se gli sparo succede bam ti succhio anche anche se non serve a niente c'è il potere massimo zampata zà 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 è morto zà è bene qua che c'è frammento di alluminio e lamiera di piombo scellini scellini cinque scellini di qua dovevamo andare rabbia repressa no 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 anzi allora tanto fa bene funziona tutto sì funziona tutto funziona tutto quanti sono volevo fare la double kill sarebbe stato figo ah qui c'è qualcun altro allora il sistema action mi sembra molto basilare vi dico la verità adesso che sia un po' sia un po' riempito di di mosse abilità armi a distanza schiva sistemi di schivata insomma mi sembra che sia un combat system molto molto semplice e forse proprio perché non è l'obiettivo principale del team di sviluppo quello di focalizzarsi sul combat system la versione 1.03 è pronta per l'installazione ragazzi non c'è la day one patch qua perché io l'ho acchiappato proprio prima di iniziare dov'è che dovevo andare di qua sì di qua andiamo un po' nascondiglio sbloccato nuovo nascondiglio disponibile per riprosarsi appena trovato un nuovo nascondiglio qui puoi spendere i tuoi esp mentre riposi e creare oggetti sul banco di lavoro vediamo anche se c'è un po' di crafting vediamo che cosa possiamo fare con il crafting dov'è il banco di lavoro è qua ok vediamo un po' creazione su un banco di lavoro puoi creare farmaci per curare cittadini malati sieri per potenziarti miglioramenti delle armi per migliorare e personalizzare le tue armi hai abbastanza componenti per migliorare una delle tue armi premio R2 che cosa voglio migliorare la lama ampia usata spesso da marinare e pescatori miglioriamola puoi migliorare la tua arma per raggiungere un nuovo livello con gli ingredienti necessari infliggerà più danni e otterrà l'accesso ai vani di personalizzazione che dite? c'ho tutto macete usato parte per impugnatura normale migliora bam e qui ci sono i vani di personalizzazione purtroppo non ho la polvere di alluminio danni aumentati trattamento diminuisce il consumo di energia ok e più posso volendo ulteriormente migliorare no questo è già fatto posso migliorare questi qua ok posso creare anche non lo so bottiglia di alcol ricicla farmaco farmaco per la stanchezza non c'ho un cazzo di niente mi manca tutto vediamo se posso salire di livello che cosa succede no ragazzi oggi niente Q&A scusate oggi niente Q&A l'abbiamo anticipato alle 14 l'abbiamo trasformato in un Q&A speciale questa settimana per noi dedicato a Vampyr questa settimana per noi è un po' particolare perché dobbiamo seguire tutte le produzioni che si sono affacciate sul mercato fra cui Vampyr è un rush che ha le giocherà domani giusto per arrivare alle 3 avendo chiuso la parentesi dei titoli appunto disponibili sul mercato per completezza appunto della nostra offerta editoriale però sappiate che rimedieremo nel senso che venerdì c'è il Q&A il primo da Los Angeles dalle 17 dalle 5 non dalle 4 dalle 5 del pomeriggio e da lì in avanti per tutta una settimana quindi da venerdì fino al venerdì successivo un Q&A al giorno dedicato anche e soprattutto a quello che vedremo a Los Angeles alle nostre aspettative alle nostre impressioni dalle conferenze quindi e ovviamente a tutte le domande genere che sul mercato quindi mi raccomando segnatevelo sul calendario da venerdì a venerdì dalle 5 alle 6 del pomeriggio tutti i cazzo di giorni così come dicevo l'anno scorso tutti i giorni Q&A con la redazione di Every Eye al gran completo quindi ci sarà Todd Serino Ale e Giuseppe Bordi welcome benvenuto si è iscritto appena iscritto al canale benvenuto nell'orda di Every Eye allora 730 ESP possiamo forse condizione fisica 50% di salute 15% di energia volume di sangue aumenta il mio assorbimento morso aumenta il danno inflitto no aumenta la rigenerazione della vita questa mi piace se posso la prendo 300 me la me la prendo quando faccio un morso mi da un po' di cura mi piace molto scienza non la posso ancora sbloccare questa costa 300 potrei ma quasi quasi aumento invece la salute o sì la salute pensa alla salute dicevano i vecchi del paese sto cazzeggiando lo so ma è bello lungo eh quindi diciamo che il sistema sembra evidentemente pensato per metterti un po' in crisi perché se vuoi sbloccare tutte ste robe sicuramente bisogna di uccidere qualche cittadino di quelle principali ah c'erano anche le difensive coagulazione blocchi il sangue nel bersaglio delle sue vini rendendolo indifeso figo fighissimo fighissimo anche proprio come idea ok dai confermo dormiamo fra ma questa cosa che sony tira fuori una presentazione di un gioco al giorno da domani a domenica allora non è una presentazione di un gioco al giorno è un annuncio quindi in effetti un paio di giochi vengono annunciati ma poi ci sarà anche un annuncio di una data d'uscita e proprio non è una presentazione è un rifornisci tutto è un modo per tenere interessata e attiva la community e la paura del pubblico legittima anche da un certo punto di vista è quella che sostanzialmente il questo possa smussare un po' le armi qua che c'era scellini scellini sicuri che non posso andare da nessuna parte non è no questo era solo un refugio vabbè eppure eppure dove devo andare si si ti succhio topo ti succhio anche tu topo 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 è qua la paura dicevo è quella che gli annunci possano in qualche maniera spuntare le armi della prese della della conference perché se tutti gli annunci li fanno prima poi dice uno dice che cosa resta durante la conference e ah questi tornano tutte le volte che è come tutte le volte che fai al falò ritornano ma io li ammazzo io li ammazzo perché mi danno comunque esperienza forse no forse no non me la danno non mi stanno dando nessuna esperienza dicevo se tutti gli annunci li fanno prima poi che resta in conferenza questa è la domanda che ci chiediamo tutti la speranza è che Sony sappia che fare una conferenza senza novità è sbagliato è proprio sbagliato a livello di immagine a livello di comunicazione anche a livello di coinvolgimento e engagement del pubblico per usare un termine un po' così falce usata equipaggio un'arma a due mani e preme triangolo per parare gli attacchi se lo fai al momento giusto posso fare il parri falce ok vediamo un po' la falce e che cos'è che dovevo fare per parare per parare gli attacchi tenere premuto no triangolo triangolo si questo è il parri ok qui mi sa che che William Bishop è il primo boss è il primo boss oh fa male e che cazzo William Bishop sto usando l'autofagia potrei anche fare eh uno due sei morto William Bishop sei morto praticamente sei morto sei morto fai ti pari così ah posso provare il parri boom no non posso provare il parri oh 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 muori mi hai dato un randello usato esamina la vittima ok la vittima di William Bishop che era questa era un uomo onesto avrei potuto salvarlo ma non penso che avresti potuto far tanto signore si concentri sulla mia voce io sono un medico ah cazzo cazzo c'è William Bishop ok grazie alcuni skull sono tanto resistenti quanto noi lei chi è? cosa intende con skull? eh queste sono due domande interessanti lei è davvero rinato da poco ah è la voce che avevamo sentito al pub e questo dottore Swansea datemi un momento per ormeggiare e poi ce ne andremo da questo orribile posto va bene William non era malvagio come dicevano eh questo Sean è convinto della bontà del suo carnefice dai forza andiamo presto il sole sorgerà le servirà un posto vabbè quindi c'è qualcuno che accetta comunque i vampiri eh e quindi adesso indaghiamo un attimo la scena del questa povera creatura non può essere il mio creatore potrebbe essere una qualche sottospecie di vampiro devo trovare un posto per analizzarne il sangue c'è altra roba da raccogliere barra di piombo frammento di alluminio questo bishop era un po' vizioso no il sangue l'abbiamo già preso dunque ok fine possiamo andare sale sulla barca si possiamo andare possiamo andare ovvio sempre tornando sulla conferenza Sony Vulcanoro dice lo potrei giustificare solo nel caso abbiano tanta di quella carne al fuoco che portarla tutta alle tre rischierebbe di allungare troppo i tempi allora se loro avessero dedicato insomma a questi giorni prefiera degli annunci minori tra cui magari anche perché no una data d'uscita anche di un titolo grosso che può essere Days Gone che può essere Dreams ci potrebbe stare benissimo perché poi sappiamo tutti che quando annunciano la data d'uscita non è come quando annunciano una cosa nuova quindi ci può stare benissimo però ripeto c'è bisogno che abbiano qualcosa di forte comunque secondo me Days Gone lo portano sul palco magari lo portano sul palco ma la data d'uscita l'annunciano prima perché no ciao Cricks benvenuto benvenuto sono il direttore del Pembroke Hospital vediamo se mi sono perso qualcuno che si è abbonato no non mi sono perso nessuno va bene quante altre cartucce pesanti ha lo scoperto Sony a parte Days Gone Ghost of Tsushima Death Stranding chiamarle cartucce pesanti forse addirittura riduttivo sono due robe potenzialmente devastate Death Stranding e The Last of Us 2 cioè Days Gone rischia quasi di sfigurare anzi già l'anno scorso qualche riserva chi l'aveva vista l'aveva tirata fuori sembra un titolo solido ma non un titolo della portata degli altri cioè almeno di due dei tre che ho appena citato lollo non ho nessuna idea su che cosa potrebbe essere questo nuovo annuncio legato a un titolo degli World Wide Studio non lo so la mia speranza è che siano titoletti un po' piccolini interessanti ma meno roboanti dei tripla e che poi in conferenza abbiano comunque qualche annuncio bello grosso qui Jonathan racconta la sua storia è un titolo che mette molto al centro dell'esperienza la narrazione il dialogo il racconto l'indagine si percepisce anche nei primi attimi di gioco e a me non dispiace l'eventuale nuova esclusiva da chi potrebbe venire fuori sono quasi tutti impegnati o hanno fatto uscire un gioco negli ultimi tempi i team interni molti dei team interni sono tutti impegnati però Sony se non erro comunque ha aveva i tempi di Drive Club prima della chiusura di Evolution Studio 16 team interni io immagino che insomma qualche cioè non tutti tutti siano impegnati o abbiano intanto il caricamento delle texture un po' aggressivo o abbiano pubblicato qualche cosa i principali sì però che ne so qualche divisione di Japan Studio per esempio potrebbe tirar fuori una sorpresa c'è chi dice che Gen Design di Fumito Ueda sia comunque ancora vicina al all'ambiente Sony vai a sapere ricordatevi che hanno Gen Design ha pubblicato un teaser un'immagine teaser non molti mesi fa eh Wild potrebbe tornare Wild oh magari Front Software secondo me Shadows Die Twice lo vediamo in un'altra conferenza però Front Software io vi ricordo sempre e comunque che è una software house che in certi momenti ha pubblicato più di un titolo all'anno e adesso sono dal 2016 che non tira fuori un prodotto inedito è abituato a lavorare con ritmi molto serrati ha già detto di essere al lavoro su tre prodotti parallelamente quindi magari ci fa una super sorpresa e arriva un doppio titolo from non ci giurerei eh questo è proprio però vai a sapere magari ci fanno una sorpresa portami in ospedale analizza il sangue di William Bishop in ospedale va bene allora loro signor Hampton signor Hampton fra dici tutto quello che sai no non succederà oh scusami ma l'hai buttato nel Tamici l'hai buttato nel Tamici qua c'è la scelta morale c'è la scelta morale senti però sei uno stronzo allora io sono nobile nell'animo e quindi ti porto all'ospedale però sì sia più gentile che cazzo sei Peaky Blinder eh bravo Clay Cox e adesso le dispiacerebbe portarmi in un posto migliore dottore va bene va bene la qualità del sangue indica quanti esp otterrai da un determinato cittadino più alta la qualità del sangue più esp ottieni esperienza per bere il sangue della tua preda devi prima affascinarla per condurla lontano dagli occhi degli altri il tuo livello di fascinazione deve essere uguale superiore alla resistenza del cittadino premi L1 per affascinare Clay chissà che gli sussurra l'orecchio ma io volevo veramente curarlo abbracciare Clay questa è la scelta morale di Bioshock insomma se la sorellina la prosciughi oppure la liberi fornerà un grande aumento dell'esperienza ma fai attenzione perché ci saranno delle conseguenze lo libero sappiate che lo libero lo libero perché sì dai perché la scelta più difficile è quella che conduce la via più difficile è quella mia è sempre la migliore Clay ti libero prima o poi dovranno tirirsi in effetti il sangue non è che ce n'abbia tantissimo molla ho preso una molla due molle Clay sono svenuto no non sei svenuto sei andato vicino a una morte lenta e orribile per prosciugamento sanguigno operato dal sottoscritto polvere di alluminio questa mi permette di potenziare il mio macciete e se qui ci avessero delle fiale di sangue buonasera infermiera questa infermiera la faccia di questa infermiera no no abbraccio c'è un po' di di singhiozio domande personali infermiera indizio richiesto la sua vita a Londra com'è la situazione qui sentiamo non bene a dir poco stiamo lottando contro un nemico invisibile più letale di qualsiasi proiettile di arma da fuoco è dura dottore l'infermiera ha il compianto Robin Williams e poi Robin Williams però si cazzo è Louis e vabbè anche nella Londra vittoriana c'erano c'era il cross dressing poi non è vittoriana anche nella Londra scusate boh non so perché ho detto vittoriana anche nel 1918 questa madonna hanno tutte delle facce dai vai manda Milton a prenderlo qual è il gioco Sony che non vedi l'ora di provare se ci fosse da provare sarebbe The Last of Us 2 ma non credo ci sia da provare secondo me ci fanno vedere il gameplay ma non ce lo fanno giocare e con Death Stranding uguale avrei qualche domanda Dorothy Dorothy però guarda me sta guardando vedete sta guardando oltre e sono come quelli che ti guardano qui cazzo ti sono davanti perché chi cazzo c'è Dorothy sta guardando Dorothy vabbè mi dispiacerebbe indicarmi di nuovo dove si trova la mia stanza Dorothy sono qua vabbè guarda mi metti l'ansia lei sa che c'è qualcuno oltre lo schermo cazzo è vero è vero ti guardava guarda guarda il giocatore è questo rompe la quarta parete allora ma che trovo tipo delle fiale di sangue succulente che schifo un po' bere dalle fiale per la trasfusione però ascolta meglio dei topi meglio dei topi questo tu ce l'hai queste fiale di sangue il famoso dottor reed questo 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 si è girato ti parla tipo così ciao ciao ragazzi benvenuti a questa live ma si rifiutano domande personali indizi richiesti la sua vita a londra indizi richiesti indizi richiesti mario 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 pepi ci manda i cheer grazie sono contento che ti sia piaciuta sta cacca va bene ragazzi adesso facciamo tutta la live così noi ah fiala di vetro era vuota fiala di vetro era vuota io preferivo la fiala piena vado in ufficio e poi ragazzi che ne dite se mi fermo perché qui dovrei iniziare a chiacchierare con tutti i tizi ma non la finiamo più mentre io volevo rispondere a qualche mail prima poi di ritornare in diretta per il reveal del dell'anno 2 di destiny 2 ci faranno impazzire anno 3 di destiny 2 anno 1 di destiny 3 che è meglio dell'anno 1 di destiny 1 peggio dell'anno 3 di destiny 2 vi immaginate quando arriviamo al decimo anno mettiamo via la testa va bene siamo ah vediamo che possiamo fare qua creazione devi prima analizzare i componenti che hai trovato per sbloccare nuove formule analizza c'è un lieve tremore lo vedete non so se si percepisce ma questo questo riquadro dove c'è scritto campione di sangue di william bishop c'ha il parkinson e noi analizziamolo siero rigenerante leggero e mi manca il tartarato di ferro e la soluzione di ipoclorite di sodio il sangue di william bishop è nettamente più instabile di quello umano e mostra ampie mutazioni tuttavia non ha nulla a che vedere con il mio caso va bene riposo al letto fino alla prossima notte caro jonathan ho chiesto all'infermiera crane di procurarle un ufficio al primo piano prego per donare l'arredamento immagino quanto si sente atturbato a questa nuova realtà le ho lasciate una copia dei miei appunti che concerne le mie scoperte sugli econ degli ultimi anni li legga pure se hai necessità di aiuto a condizione che non usi questa conoscenza per approfittarsi di me eh malfidato malfidato Mario Pepisi è anche iscritto benvenuto nel lorda Mario benvenuto benvenuto allora questo combat system com'è? bomba schifo dimenticabile soddisfacente ciao robe giusto in tempo perché sto chiudendo no il combat system non fa schifo ma non è almeno per quanto ho visto adesso in queste prime due orette di gioco non sembra che sia il focus principale della produzione è un combat system classico non lo paragonerei assolutamente a quello un po' dilagante del free flow non ho riconosciuto particolarità incredibili è un po' ingessato è vero ma non è quello il suo problema forse il problema che è tu dici dimenticabile non così direi non così tanto sapito almeno fino ad adesso molto regolare per fare in modo di avere un momento d'azione parallelo a quello di indagine e dialogo che invece mi sembra essere quello principale della produzione essendo i don't know forse va anche bene così ovvero che il focus principale sia sulla sceneggiatura sul racconto sull'indagine sui rapporti con gli NPC se cerchi un action game in cui che abbia un combat system tecnico profondo forse non è questo il titolo che fa per te conoscendoti immagino che insomma non sia nemmeno quella la tua priorità va bene 650 di esperienza ma direi che qua possiamo staccare così io ho un'oretta di tempo adesso per rimettere tutto a posto cambiare setup ricordandovi che alle 5.40 torniamo live perché alle 6 questo è il cuore di Agony perché alle 6 commentiamo il reveal dell'anno 2 di Destiny 2 ok e poi vi ricordo che stasera alle 21 invece c'è il talk show con Sabaku Eo lo sembra reggere quindi per il momento siamo abbastanza sereni Alicia dice fra per Telegram dove ti devo scrivere a link chiocciola every eye punto it e vi mando il link per unirvi al canale Telegram White Wolf a proposito di Destiny per colpo tuo che l'estate scorsa mi consigliassi di provare Destiny 1 in attesa del 2 io lo provai ed allora non sono più riuscito a smettere di giocarci sono felice perché ogni tanto la gente mi dice vaffanculo che mi hai consigliato Destiny 2 mi fa cagare l'ho comprato l'ho rivenduto e Destiny è un gioco in cui se ci entri riesci a trovare una community diventa diventa una roba che è difficile staccarsi io devo ammettere che non ci gioco più con la regolarità con cui giocavo al primo capitolo però una volta a settimana mi connetto sempre Fra ho fatto il danno che succede? che succede? che succede Duke? stasera avremo il disagio sì eh lo so me la tiro Virgi o Virghi Virghi Ansem si è unito ai nostri follower grazie ragazzi ci vediamo fra un'oretta esatta per il reveal di Destiny e poi alle 21 con Sabaku ricordatevi che da venerdì prossimo ci sarà un Q&A al giorno dalle 17 alle 18 dalle 5 del pomeriggio alle 6 perché noi saremo a Los Angeles quindi per noi saranno le 8 del mattina quindi concedeteci almeno di farlo alle 8 e non alle 7 del mattino che sennò dobbiamo svegliarci alle 6 che sennò ci esplode il capo quindi un Q&A al giorno da venerdì sabato domenica lunedì e poi fino al venerdì successivo e tutte le dirette commentate in italiano peraltro vi se andate sulla pagina principale di Avriai.it adesso non importa più nemmeno andare nemmeno andare in quella delle 3 e adesso che è www.avriai.it ma ve la linko lo stesso e scendete fate uno scroll vedete tutti gli orari di tutte le conferenze addirittura ordinati in ordine cronologico grazie all'intervento di Rob Eman che mi ha segnalato prontamente che avevamo invertito il PC Gaming Show con la conferenza di Ubisoft basta sto dilagando divagando dilagando sbaglio le parole vi amo a fra un'ora sto dilagando ragazzi sto dilagando dilagando ciao dilagando ma cazzo si fa a sbagliare dilagando 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 ma io non ho io questo è l'ansia 3 e 3 questo è il cervello già in pappa prima della partenza già in pappa prima della partenza è un problema è un problema che poi loro non lo sanno ma io nei giorni prima dell'apertura della fiera ho questo stress nervoso che poi riverso sui miei colleghi è un casino sarà un coverage bellissimo ragazzi bellissimo e Grazie a tutti